Nuovo stop nella raccolta della spazzatura Shack e questa volta a causa dello sciopero dei lavoratori delle ditte Sea e Bono che gestiscono i servizi del Piano Aro. Domani niente ritiro della spazzatura, ossia del multimateriale differenziato, plastica, carta, cartone, vetro e alluminio come previsto dall'eco-calendario. I lavoratori incroceranno le braccia per protestare contro il ritardo nel pagamento degli stipendi. Lo hanno annunciato questa mattina i sindacati, dopo che non sono andate a buon fine le trattative avviate per ottenere la garanzia di pagamenti puntuali. Il contratto di lavoro, evidenziano, prevede che le spettanze siano versate tra il 27 ed il 30 del mese, a cui si riferisce la remunerazione, ma non viene rispettato neanche l'impegno assunto dalle ditte alla presenza dell'amministrazione comunale, ossia quello di procedere al pagamento entro il 15 del mese successivo. Alla base della protesta anche il mancato confronto con le organizzazioni sindacali su orario e organizzazione del lavoro. Queste dunque le motivazioni, il risultato è che domani non sarà garantito il servizio e i saccensi dovranno tenersi in casa il materiale accumulato e attendere il prossimo turno di ritiro, previsto per venerdì, nella speranza che non intervengano altri problemi. Lo sciopro dei lavoratori addetti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti arriva infatti a ridosso di una emergenza spazzatura legata al blocco degli impianti, discariche e centro di compostaggio che non può dirsi certamente ancora superata. Siamo sempre a rischio e ci avviciniamo sempre di più al periodo delicato dell'estate, stagione nella quale la produzione di rifiuti aumenta considerevolmente in città.